Alejandro Agaghi in griglia di partenza, siamo arrivati al numero 52, prima pioveva adesso ha smesso, quindi continua? Non ce la facciamo, non ce la facciamo, stavo aspettando una gara bagnata, forse è buono che si fermato adesso per la griglia di partenza così la gente può sfruttare questo momento, ma vediamo, speriamo che piova un po' a metà corsa perché se no non avremo mai una gara bagnata. E so che Roma per te è una soddisfazione particolare perché è stata una delle prime gare della storia della Formula E che tu hai voluto fortemente. Anzi la prima, siamo stati la prima citato e siamo venuti a fare un show, quel giorno sì è piovuto, ma mi ricordo anni e anni fa e sì, era Roma sempre per noi era l'obiettivo, siamo qua. Grazie, ciao. Grazie.